Fino al 24 giugno 2024, al Museo Pol di Pezzoli di Milano, si può assistere alla riunione, dopo secoli di separazione in vari musei del mondo, del politico di Piero della Francesca, dipinto per la chiesa di Sant'Agostino di Borgo Sansepolcro, negli anni dal 1454 al 1469. Molti dei pannelli sono perduti, in particolare quello centrale, raffigurante l'incoronazione della Vergine. Dalla National Gallery of Art di Washington arriva la giovane Santa Polonia, seria e solida nella volumetria cilindroconica, che ci mostra la tenaglia e un dente, a ricordo del suo martirio. Lo sfondo dorato ne accentua la resa volumetrica, come per il San Leonardo della Frick Collection di New York, in veste nera e austera. Entrambi i quadri, lo deduciamo dalla posa dei Santi, si trovavano a destra nel politico. A sinistra, nella predella, sempre della Frick Collection di New York, abbiamo la piccola crocifissione, affollata nella metà inferiore di bandiere, persone e cavalli, tutti inabile prospettiva, sopra i quali, solitario, si staglia il Cristo, che ci accoglie nel suo abbraccio, e poi la Santa Monica, madre di Sant'Agostino, e colei che lo convertì al cristianesimo, da ragazzo dedito al vizio e ai piaceri della carne. A lei è abbinato uno dei quattro grandi pannelli, quello proveniente dal Museo Nacional de Arce Antiga di Lisbona. È proprio quello raffigurante il Sant'Agostino Vescovo, più elegante della storia dell'arte. Indossa un mantello ricamente decorato, con scene della vita di Cristo, guanti bianchi, gioiali raffinati e un pastorale in cristallo di rocca, anche se Vescovo non aveva dimenticato il lusso della vita mondana. Netto è il contrasto con San Nicola da Tolentino, unico pannello appartenente alla pol di Pezzoli. Il santo è vestito di un semplice saio scuro, ma la sua stazza rivela la passione per i piaceri della tavola. La cintura, girata, lo rende ancora più distante dalla sciccheria di Sant'Agostino, mentre le dita che sorreggono il libro sono la firma di Piero della Francesca, esperto innovatore della prospettiva geometrica. A San Nicola, Santo Francescano sta a San Leonardo, anche egli è francescano, come Sant'Agostino sta alla Madre Monica. Eccoci ora ai due pannelli centrali, raffiguranti i due santi gerarchicamente superiori e che perciò occupano i posti più vicini alla Vergine e al Cristo del pannello centrale. Partiamo da San Giovanni Evangelista, della Freak Collection, rappresentato da anziano, mentre legge il libro che scrisse da anziano, cioè l'Apocalisse. È avvolto da un mantello rosso che copre il corpo, gli dà peso, agganciando la terra, ma nello stesso tempo il cielo azzurro paradisiaco alle sue spalle sembra farlo fluttuare verso l'alto. Il viso, le mani, i piedi ci restituiscono comunque un corpo reale, terreno. Il contrasto con la pelle lattea di San Michele non può essere casuale. Michele, proveniente dalla National Gallery di Londra, è vestito da antico romano in armatura di cuoio che, al contrario del mantello di Giovanni, ci permette di vedere bene la muscolatura dell'angelo soldato. Bello, giovane, elegante, con quella camicia di stoffa trasparente orlata di perle. Anche la spada è di fattura pregiata, a contrasto col sangue sulla lama che ha appena tagliato la testa al demonio in veste di serpente. Sì, la testa è appena stata staccata dal corpo, che ancora solleva la coda in un atto riflesso, e Michele ne approfitta per mettere in risalto le sue scarpe rosse. E non c'è dubbio che la raffinatezza dell'abito di Michele sta a quella di Agostino, come la sobrietà di Giovanni sta a quella di Nicola, e il matematico Piero avrebbe sicuramente approvato il mio uso della proporzione. Partoriti dalla geniale mente di Piero della Francesca nel 1454 e separati e dispersi nel mondo pochi secoli dopo, i pannelli superstiti si sono temporaneamente riuniti, e quando il museo chiude e le sale si svuotano, chissà quante cose avranno da raccontarsi.